Concorrenti dall'indiscutibile talento e quelli che catturano per l'innata simpatia, pochi e semplici ingredienti che fanno grande uno spettacolo con il valore aggiunto di ospiti molto amati dal pubblico. Diventa sempre più appassionante l'appuntamento con Hospital Show, il talent che andrà presto in onda su Alpa 1, ad affiancare puntata dopo puntata i conduttori o come amano definirsi i conduttori Calandra e Calandra la trascinante Rosaria Ferrito e poi immancabili sul palco per soccorrere alcuni talenti particolari ci sono gli immancabili Vincenzo Caradonna e le sorelle Polessi. Ospiti ieri il musicista Salvatore Pizzurro, la ballerina di Danza del Ventre Deborah Serina con le sue Rose d'Oriente e il cabarettista Alessandro Gandolfo. Mentre per la sesta serata si attendono l'illusionista Cristian Carapezza, maestro di magia e trasformismo, il cantante Massimiliano Arizzi e la coreografa Giussi Sole. Per quanti volessero assistere alla registrazione studio, l'ingresso è gratuito, basta inviare una mail a pubblico-alpa1.com, senza contare che gli spettatori studio potrebbero essere chiamati a far parte della giuria popolare che contribuisce con i suoi voti sommati a quelli della giuria di qualità a decretare i vincitori. Ancora spazio per gli aspiranti concorrenti che possono chiedere di partecipare, anche in questo caso gratuitamente spedendo una mail a alpa1casting-gmail.com, allegando una foto, la descrizione del talento o anche un breve video di presentazione.